Fare leva sulla morte di innocenti e sul dolore di migliaia di famiglie per alimentare divisioni e riaprire ferite che hanno lacerato i confini orientali nel secondo dopoguerra è un esercizio che la regione non può che condannare con forza, lo afferma il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga nella settimana che si chiuderà con le cerimonie del giorno del ricordo. Spiace leggere, aggiunge Fedriga, che ancora oggi vi siano realtà che utilizzano una tragedia come quella delle foibe per rinverdire attraverso iniziative negazioniste, polemiche che auspicavamo superate. La regione conclude condanna formalmente convegni come quello promosso dall'Ampi a Parma il cui unico fini non è la ricerca di verità storiche bensì lo svilimento di un dramma vissuto dalle comunità italiane sul territorio nazionale e su quello dell'ex Jugoslavia. L'iniziativa che vede la partecipazione dell'Ampi di Parma e vedrà la proiezione di due documentari negazionisti firmati Sandy Vucchi, Alessandra Kersevan e Claudia Cernigoi arriva a qualche giorno di distanza da un post negazionista vergato dall'Ampi di Rovigo che definiva le foibe fandonia fascista. Di contro l'Ampi di Padova si è dissociata dalle teorie negazioniste laddove l'Ampi nazionale le ha stigmatizzate fortemente.